Allora vado un attimo Davidino perché diciamo questo ci chiama in causa ovviamente anche il terrorismo, si parla di cultura, si parla di scambio di idee, però diciamo l'elemento tra virgolette ideologico, ideale, la scusa della religione è la matrice del terrorismo islamista. Prima cosa, un giudizio sul ritardo dell'invasione israeliana verso Stiscia di Gaza, pensi che ci siano dei margini di trattative sotterranee che qualcuno sta conducendo, se non Israele qualcun altro? Certo, soprattutto gli Stati Uniti che stanno conducendo queste trattative, Blinken il segretario di Stato è appena ritornato in Israele dopo aver fatto un tour delle varie capitali arabe, quindi assolutamente c'è una diplomazia a lavoro molto intenso. Questa frenesia diplomatica giusta che porta un briciolo di speranza è una delle ragioni del ritardo, probabilmente ci sono anche ragioni più tecnico-militari e insomma il desiderio dell'esercito israeliano di avere quanta più intelligence possibile, perché comunque la battaglia di terra se ci sarà, sarà durissima. Detto ciò penso che si possa solo ipotizzare un ritardo e non penso ci sia un grosso margine per pensare che l'intervento di terra non avvenga. Visto il linguaggio utilizzato non solo da Netanyahu ma da tutti i vertici israeliani, se l'obiettivo è quello di eliminare interamente Hamas come organizzazione, non solo militare ma anche politica, è difficile pensare che degli interventi solo via aerea lo possono compiere. Domanda, Vidino è anche direttore del programma estremismo della George Washington University. Oggi l'antisemitismo che matrice ha? Da dove arriva? È trasversale. Direi che questa è forse una delle novità tristi degli ultimi anni. Conosciamo tutti, il vostro servizio era ottimo, conosciamo tutti l'antisemitismo classico di estrema destra, di destra, che abbiamo un po' creato noi europei. Esiste un antisemitismo forte nel mondo arabo, nel mondo musulmano, che è parzialmente di importazione europea. Arriva nel mondo arabo con il colonialismo, per buona parte, nell'Ottocento con i missionari cristiani, poi con i nazisti, poi con l'Unione Sovietica. Molte delle immagini antisemitiche che vengono utilizzate nel mondo arabo sono importate dal mondo occidentale dall'Ottocento in avanti, soprattutto durante la Guerra Fredda. Oggi però vediamo anche un antisemitismo che viene da sinistra, perché comunque molte delle manifestazioni che abbiamo visto nelle capitali europee, alle quali voi alludevate, vedono una componente islamica, ma anche una componente di una sinistra antagonista, con immagini forse non così direttamente antisemitiche come quelle di estrema destra, forse più sottili volendo, ma non meno insidiose. Lo slogan di cui parlavate voi, il From the river to the sea, Palestine will be free, dal fiume al mare la Palestina sarà libera, è di per sé volendo antisemita, perché comunque vuol dire che non vuole la presenza di Israele, nega la legittimità di uno stato ebraico, perché dal fiume al mare vuol dire la distruzione intera di Israele. Quindi purtroppo la trasversalità e online vediamo molte di queste confluenze ideologiche, in cui sulle stesse piattaforme estrema destra si stavano d'accordo. Volevo segnalarvi un altro episodio che qualche mese fa, nel corso dell'Octoberfest, ci ha preoccupato, ci ha comunque spaventato vedere in Germania i saluti nazisti per un paese che sente giustamente il peso della vergogna della Shoah, le vediamo insieme.